Pronti a un'invasione di smartwatch e dispositivi indossabili basati su Android? Io sono Chiara e questo è Tech Break. In questi giorni è stata rilasciata da Google una prima versione del preannunciato sistema Android Wear, una versione di Android ottimizzata per i dispositivi indossabili. Insieme al nuovo sistema sono stati mostrati i primi dispositivi che ne faranno uso. In arrivo faranno molto. Uno smartwatch da LG, chiamato G-Watch, e uno da Motorola, chiamato Moto 360. Google ha dichiarato di essere a lavoro anche con altri produttori per la realizzazione di smartwatch e non solo, basati sul nuovo sistema, in grado di mostrare notifiche da Google Now, accettare comandi vocali e comunicare con lo smartphone. E sono emerse nei giorni scorsi nuove informazioni su HealthBook, il sistema di tracking personale di Apple, che dovrebbe fare la sua comparsa con iOS 8, di cui ci si aspetta l'annuncio durante l'annuale conferenza degli sviluppatori Apple di giugno. Sembra che HealthBook sarà in grado di effettuare, oltre al monitoraggio dell'attività fisica, anche l'analisi del sangue, ma non è ancora chiaro in che modo. Altre indiscrezioni relative ad iOS 8 indicano una migliorata applicazione per le mappe, una semplificazione del centro notifiche, un miglioramento della comunicazione tra app e l'abbandono dell'app Game Center. Questo mese arriverà l'attesa versione per iPad di Microsoft Office, che verrà presentato ufficialmente il 27 marzo. In questi giorni apparsa in rete la prima immagine dell'app, che mostra la schermata d'apertura della suite per la produttività personale, che da quanto si può vedere includerà Word, Excel, PowerPoint e OneNote. E proprio di OneNote, una app per le note cloud-based stile Evernote, è stata rilasciata da Microsoft una versione gratuita ridotta per Windows e per la prima volta anche per Mac. Buone notizie per gli amanti dei videogiochi. Sembra che la nuova console di Amazon, basata su Android, di cui abbiamo già parlato, potrebbe arrivare il prossimo mese, a quanto pare in un formato compatto, analogo a quello del Chromecast di Google. Nei giorni scorsi sono apparsi in rete delle immagini del presunto controller, con tasti relativi non solo ai videogiochi, ma anche alla riproduzione di contenuti multimediali. Notizie interessanti anche da Sony, che in questi giorni alla Game Developers Conference ha presentato un caschetto per la realtà virtuale per PlayStation 4, analogo all'Oculus Rift, chiamato Project Morpheus. Ed è uscito in questi giorni il numero di marzo di TechMate, una rivista sul mondo della tecnologia a cadenza trimestrale. In questo numero si parla, tra le altre cose, di come Twitter ha modificato il nostro modo di comunicare con gli altri, dell'uso delle impronte digitali come metodo di autenticazione per gli smartphone al posto delle password, del mondo delle stampanti 3D, di Internet TV, di ebook e di robot. Trovate TechMate all'indirizzo www.techmate.it, in versione cartacea e nell'app gratuita disponibile sia per iPhone che per Android, che include anche una sezione dedicata a TechBreak. E chiudiamo con le news veloci. Chromecast, il dispositivo di streaming video di Google, è ora disponibile anche in Italia, al prezzo di 35 euro. Gli utenti di Android potranno presto giocare in multiplayer con gli utenti di iOS e, come per Apple, le modalità di acquisto in app e in Android diventeranno più chiare e configurabili. È stata rilasciata la versione 28 del browser web Firefox, con supporto per i video in formato VP9 e delle notifiche di OS X, e stando al suo creatore, Flappy Bird, tornerà nell'App Store. Le riprese di Ghostbusters 3 partiranno nel 2015, quelle di Star Wars 7, in cui a quanto pare vedremo anche i membri del cast storico, partiranno a maggio, ed è uscito in questi giorni in Contemporanea Mondiale il film di Veronica Mars, finanziato su Kickstarter. Bene, anche per oggi è tutto. Per maggiori informazioni seguiteci anche in podcast su www.techbreak.it, su Facebook, Google+, Twitter e Instagram. Un saluto da Chiara. Un saluto da Chiara.